È uno dei luoghi più amati dagli Aquilani, il più frequentato da tutti, famiglie, ragazzi, pensionati, studenti, runners. Ora si presenta con un volto nuovo grazie ai lavori di riqualificazione avviati poco più di un mese fa con un importante finanziamento della Fondazione Carispac. Tra i primi a sperimentare in Italia l'articolo 20 del Codice degli Appalti è entrato in vigore nel 2016 che consente in sostanza a soggetti privati di eseguire lavori su beni pubblici con una maggiore velocità di cantierizzazione. Si sono conclusi da pochi giorni i lavori del primo lotto pronti a partire ai cantieri del secondo per un totale di circa 2 milioni di euro tutti messi a disposizione dalla Fondazione Carispac. L'obiettivo è finire in tempo per le celebrazioni della perdonanza celestiniana ad agosto. Sono stati fatti i vialetti, sono stati rifatti i cordoli di contenimento delle aiole, sono stati sistemati le aiole, sono stati fatti l'impianto di irrigazione, sono stati installati dei tavoli da gioco, le prime panchine. Quindi insomma siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto fin qui. Il secondo lotto interverrà sul parco gioco dei bambini, interverrà sull'area così benessere che è quella sotto la recensione che in questo momento delimita l'anello intorno al castello con due percorsi, uno per i povedenti, un altro per persone giovani, anziani che vogliono passeggiare oppure vogliono fare footing o comunque famiglie e quant'altro. Naturalmente c'è anche il problema dell'illuminazione che dovrà essere completata, il problema della raccolta rifiuti, dei cestini di rifiuti, l'assestimazione dei vialetti, interferremo anche in questa parte della chiesina. E tra i prossimi interventi al centro dell'attenzione della fondazione c'è la manutenzione dell'auditorium del parco.